Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni, ringraziamento agli italiani e la stoccata alla sinistra durante gli auguri di capodanno, di inizio anno. E così in un post sui social scrive ho avuto qualche piccolo problema di salute che mi ha costretto a casa, ma ora sto molto meglio, voglio scusarmi per gli impegni che ho dovuto rimandare, dai quali come sempre non mi sottrarrò e ringraziare tanti italiani che mi hanno mandato auguri di pronta guarizione. Un ringraziamento voglio farlo anche a quei pochi che sono riusciti a polemizzare perfino sulla salute. Mi ricordano chi non voglio essere. Quindi odiatori, ma più semplicemente area politica di sinistra che ha praticamente raccontato con frasi diverse che la sua influenza era tutta una balla perché scappava dai giornalisti, ma sappiamo che fra due giorni, tre giorni sarà a fare questa conferenza di fine anno proprio con i giornalisti. Quindi scappare da che cosa? Era solo una cosa rimandata. Quindi le polemiche sulla sua salute dice mi ricordano chi non voglio essere, come quelli di sinistra. Grazie a tutti e arrivederci a presto.